Come hai deciso di incontrare i direttori e tutti i collaboratori dei centri missionari diocesani? Innanzitutto per continuare il cammino di Sacrofano, quindi anche un tempo ancora di dialogo, di ascolto con coloro che nelle diocesi sono impegnati nella pastorale missionaria e soprattutto anche sono impegnati a fare in modo che, come dice anche Papa Francesco, anche la nostra Chiesa, le nostre Chiese, le nostre realtà siano in uno stato perenne di missione perché anche la pastorale ordinaria abbia sempre anche una chiara connotazione missionaria e quindi continuare il cammino che già avevamo iniziato lo scorso novembre, lo scorso anno a Sacrofano, Alzati, Vanninime, la grande città. Quindi quest'anno abitare la strada dalla parte dei poveri. Abitare la strada è una bellissima espressione che in questo tempo mi sembra sia capace di rappresentare in maniera molto efficace la dimensione missionaria della Chiesa. Abitare la strada significa abitare il tempo. La nostra strada è il tempo, il tempo che scorre, il tempo che non ci scorre addosso, il tempo in cui ciascuno è chiamato ad essere non semplicemente protagonista ma responsabile e particolarmente responsabile del Vangelo. La strada del tempo è la strada del passato. Non inventiamo la missione oggi, possiamo nutrire il presente delle grandi testimonianze che hanno segnato la millenaria storia della missione cristiana. Vuol dire abitare il presente, quindi essere abitanti della strada, del tempo presente, con una grossa consapevolezza di tutte le implicazioni che questo tempo contiene e di tutte le interpellanze che questo tempo ci rivolge. Ma nello stesso tempo guardare al futuro. La strada è una strada aperta al futuro. La missione, la missione che è preceduta dal Signore Risorto, è una missione che appunto si proietta sul futuro. L'uomo avrà sempre bisogno del Vangelo. Abitare la strada vuol dire anche abitare il cambiamento. Perché la strada vuol dire cambiamento, cambiano gli scenari. Mentre tu cammini, corri, percorri una strada, gli scenari cambiano. Ma non cambiano solo gli scenari, cambi anche tu stesso che stai percorrendo quella strada. Il cambiamento è una delle cifre del nostro tempo e una anche delle cifre della missione. La missione è cambiata nel tempo e la missione continua a cambiare. Immaginarsi modelli di missione che sono stati molto importanti nel passato e non rendersi conto della necessità di cambiare, io credo significhi tradire quella missione che pure si vuole ancora perseguire. E quindi è necessario non solo avvertire il cambiamento del nostro mondo, ma anche il cambiamento della missione. Il Vangelo è sempre lo stesso, ma appunto il modo di annunciare il Vangelo cambia nel tempo. Non solo cambia, ma ci cambia e cambia il mondo. Ecco, quindi abitare la strada è abitare il cambiamento. Infine, abitare la strada vuol dire disporsi all'incontro. Disporsi all'incontro, un incontro non programmato. Io posso immaginare chi mi aspetta nella mia casa, chi mi aspetta nel mio villaggio, nel mio quartiere, nel mio paese. Ma non posso immaginare chi incontro sulla strada. E quindi una disponibilità all'incontro a 360 gradi. E soprattutto un incontro che non solo non ho programmato, ma che non scelgo. Di questo incontro il grande protagonista, colui che rappresenta l'altro per eccellenza, addirittura rappresenta il Dio che viene a visitarci, è il povero. Un povero quindi non semplicemente destinatario del mio aiuto, un povero che non sta soltanto ai margini della strada, sui marciapiedi della strada, ma un povero che io incontro come attore, come protagonista, in tutta quella dignità che neanche la povertà, a volte più accanita, più pesante, può nascondere. Ecco, io credo che la giornata missionaria mondiale di quest'anno, questo messaggio dell'abitare la strada dalla parte dei poveri, possa diventare veramente un germe capace di contribuire a quel rinnovamento costante della missione, di cui chi è cristiano è del tutto consapevole.